La Chiesa di Roma partecipa a questo momento importante della vita dell'Istituto, accompagna con la preghiera il suo rinnovamento con la nuova elezione della Madre Generale, alla quale formulo tanti tanti auguri, come pure formulo ringraziamento alla Madre che ha concluso il suo mandato e nelle chiese locali, come ho già detto nell'Emilia, auguro alle Canossiane di essere presente come segno di Cristo, inculturarsi con coraggio, con grande fiducia, guardando la comune meta, seguire il Signore, morire come ci dice Gesù nel Vangelo, sapendo che il Padre ci guarda e ci vuole dire.